2.000 parmurelli di Sanremo hanno raggiunto il Vaticano in occasione della Domenica delle Palme. Si è rinnovata così per la Santa Pasqua e per la celebrazione del rito liturgico della Passione del Signore, la tradizionale consegna dei parmurelli, che sono stati donati al Santo Padre Francesco, al Papa Emerito Ratzinger, Cardinali e Vescovi, oltre che ai fedeli presenti sul Sagrato di San Pietro. Il dono dei parmurelli al Santo Padre è un'iniziativa promossa nel 2003 dal Centro Studi e Ricerche per le Palme e dalla Cooperativa Sociale Il Cammino di Sanremo. Come vuole la tradizione, i parmurelli inviati a Roma attraverso la Diocesi 20.000 a Sanremo e la Cooperativa Il Cammino sono realizzati ad uno ad uno dai maestri intrecciatori che con grande abilità lavorano le giovani e bianche foglie di palma preparate per l'occasione. Nel 2014, inoltre, il Comune di Sanremo ha riconosciuto ai parmurelli Sanremaschi l'iscrizione al registro di eco, prodotto di denominazione comunale di origine. Quella dei parmurelli è un'arte che ha saputo trasformarsi in passione un insieme di tecniche e operazioni di intreccio che generazioni di famiglie hanno tramandato da padre a figlio. L'antico sapere viene oggi insegnato e divulgato anche attraverso scuole di intreccio che organizzano specifici corsi per l'apprendimento delle tecniche più tradizionali. I parmurelli non hanno solo valore ornamentale ma anche un profondo significato religioso. Continuano infatti a portare un messaggio di gioia, di pace e di speranza ricordando l'ingresso trionfale di Gesù nella città di Gerusalemme. Con la domenica di rito che da inizio alla settimana santa si è rinnovato ancora una volta l'antico privilegio di Capitan Bresca ottenuto nel lontano 1586 di fornire alla chiesa di San Pietro i palmizi per le celebrazioni pasquali. Presenti a Roma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, Claudio Littardi del centro studio e ricerche per le palme e Sergio Derda, presidente della cooperativa Il Cammino. La consegna dei parmurelli è motivo di vero orgoglio per la città di Sanremo. Promuovere l'antica tradizione dell'intreccio e dell'invio dei parmurelli in Vaticano è anche un'operazione di grande valore storico e culturale.